Buonasera a tutti e benvenuti all'evening session di questa sera. È martedì 8 febbraio, sono le 19.49 ed è il terzo video che faccio, perché purtroppo ho avuto dei problemi tecnici, per cui questa volta speriamo che vada tutto bene. Allora, partiamo dai capisaldi. Questo, la violazione di questo massimo, è stata molto importante per capire che cosa stava partendo da qui sotto. Ne abbiamo già parlato nel video precedente, quindi vi rimando a quello. Il dubbio poteva essere, e se andassimo a chiudere qualcosa di più, persino di un t più 3 inverso, di un trimestrale inverso, perché siamo arrivati a 96, anzi, ci stiamo avvicinando a 96 giorni, e quindi, eccoci qua, da questo massimo a questo massimo siamo a 91. Se ne aggiungiamo 5, che cosa succede però? Perché la riflessione l'ho fatta. 5 più 7 di raccordo si arriva a 12. Fortunatamente, escludiamo una delle varie opzioni che ci sono. Come detto, se non ricordate le due opzioni che stiamo seguendo, la principale è questa, partenza dell'annuale da qui, che non si è ancora chiuso, che ha fatto partire potenzialmente, che cosa? Un secondo t più 3 dopo questo t più 3 trimestrale, secondo t più 3 trimestrale. Quindi attenzione perché potrebbe partire un trimestrale a scendere, soprattutto se non violeremo questa media mobile a 50 periodi. Peraltro, oggi i mercati hanno fatto cose particolari, sia DAX che MIB, che anche S&P 500 soprattutto, hanno fatto un raccordo di indice, sembra. Devo ancora rivederli perché è tutto il giorno che ci sbatto la testa, ma l'analista fa questo. Guarda in continuazione i grafici per capire che cosa succede se qualche cosa si sposta rispetto alla normalità, ok? Per cui, qui siamo a 203 giorni senza un minimo corretto che non abbiamo fatto. Qui escludiamo, fortunatamente, almeno un'ipotesi di T più 4 inverso che stia andando a chiudere, perché non ci sarebbe con il raccordo inverso che al massimo ci porterebbe su per altri 4 giorni. Ricordatevi, eh ma a me non torna, non sono... Ok, ricordatevi che si studia in questo canale, ok? Se si vuole capire che cosa viene detto in ogni analisi, si prende il proprio tempo, si prendono le dispense gratuite e si richiede a info-financialarmor.eu C'è scritto ovunque nelle pagine precedenti, ovunque nei commenti precedenti e si studia, altrimenti non si capirà nulla. È difficile interpretare ciò che dico, mi rendo conto, ma è frutto di anni e anni e anni di trading ed esperienza e non di una tecnica, non dei cicli di Hurst, ma di tante tecniche messe insieme e fatte fondere insieme per avere un risultato di un certo tipo. Un risultato operativo, ricordiamoci che l'obiettivo di fare trading è guadagnare, non fare una bella squadratura, ok? Non fare una bella centratura. Qualcuno si limitava a fare quello, ma quello non opera sui mercati e magari non deve mangiare. Chi fa il trading come un professionista deve mangiare. Non dico tutti i giorni, ma se vede che un asset è in laterale, si deve spostare su altri. Per cui, lato indice, primo tizio settimanale che ha fatto così, 10 giorni, secondo tizio settimanale che è arrivato al sesto ciclo giornaliero, ma che richiede non soltanto una chiusura con un t-3 ribassista, ma con due t-3 ribassisti perché va a chiudere il primo e il secondo t settimanale con un t più 1, un bisettimanale. Quindi facciamo attenzione a questa candela perché in questo momento sembra un inverted hammer, cioè un martello inverso che potrebbe portare per domani, eventualmente, se si rimanesse più o meno così, adesso si sta allungando, e se si allunga e chiude sui minimi, non è sta grandissima candela, ma ci potrebbe portare a fare ancora una giornata di chiusura prima di salire, eventualmente di salire, perché ribadisco, l'ipotesi principale, come detto, è quella del t più 3 inverso che può farci iniziare a scendere dopo che ha chiuso. E' un raccordo inverso, dura al massimo 11 giorni, quindi ancora 4 giorni eventuali di salita contro, se partisse il t più 3 inverso, tantissime in discesa. Riflettiamo bene su questa cosa. Se non vi ricordate la seconda ipotesi, ovvero la partenza dell'annuale da qui, invece che da qui che non mi piace moltissimo, ok, ma è bitcoin, e quindi devo tenerla in conto. Un analista deve tenere in conto sempre di tutte le ipotesi possibili, anche se non gli piacciono. Non devono piacere a me, deve funzionare, deve portare gain. Non deve essere bella esteticamente. Ormai certi cicli sono non canonici, ok? Ecco perché l'evoluta funziona e la vecchia ciclica non funziona più. Perché non c'è più il discorso del tempo, che invece nell'evoluta è evoluto insieme al mercato. Scendiamo però di time frame e andiamo sul nostro 45 minuti. Avevo segnato che il sesto t-3 inverso era partito da qui, perché sembrava molto più che corretta come cosa. Nella realtà, di fatti, rivedendo come si sta muovendo il nostro inverso, è possibile, purtroppo, che abbiano fatto qui una finta e abbiano chiuso a 43 candele qui. Per cui non avremmo un raccordo alto successivamente da qui a qui. Avremmo 41 candele. Per cui, così tornerebbe. Da qui starebbe partendo che cosa, però? Attenzione. Sarebbe, starebbe partendo almeno un t-1, che potrebbe ancora fare parte di tutto questo raccordo di t-1, di t inverso, di grado settimanale inverso. Perché? Perché 3 giorni o 4 giorni si possono appiccicare questi 6. Vero però che c'è stata la violazione della media mobile a 50 periodi, che inizia a essere una perdita di forza interessante. Lato indice, di nuovo, perché sempre bisogna fare questi controlli, qui abbiamo che abbiamo preso questa centratura per buona. ovvero, formalmente, è corretta? Chiusura di quarto t-3. C'è. Tutte le condizioni rispettate. Partenza a scheggia, quinto minuto di t-3 in un nuovo, con violazione dello swing di partinenza per far partire il quinto t-3, il quinto ciclo giornaliero, e tutto il tempo che vogliamo sopra. corretto farlo partire da qui? Sì, sì, certo, formalmente corretto. Ma attenzione, anche in questo caso, l'esercizio è sempre questo. Qui siamo arrivati a 44 candele. Quindi, il quinto t-3 può essere spostato anche qui, ok? Se lo spostiamo qui, che cosa succede? Succede che, da qui a qui, siamo arrivati a 43 candele, quindi o si inizia a salire rapidamente sopra questo massimo a 43.739 dollari, o non parte niente da questo minimo. Dopo però la 43 candela significa che, ecco, si rischia che cosa? Si rischia che il quinto t-3 sia partito in realtà da qui, dopo aver fatto appunto 44 candele esatte, ok? E che da qui sia partito un quinto t-3, che è già ribassista, vincolato a seri basso, con questa candela qua. è arrivato, peraltro, anche in questo caso, a un tempo canonico, 24 barre, il minimo. Vedete come giocano HFT e tutti quelli che spostano i corsi del mercato. È interessante, giusto? Ok, anche in questo caso, allora, in questo caso, se il quinto t-3 lo spostassimo lassù, ok, inizio a metto la metà strada, avremo una chance di ritornare verso qui e di riprovare a salire. E di far partire un t-1 inverso che possa ancora far parte di questo settimanale inverso, perché ribadisco, siamo arrivati a sesto t-3 inverso e nulla vieta che si vada verso persino l'undicesimo, ma ce ne stanno serenamente anche solo 3, il nono t-3 inverso, ok? Quindi bisogna vedere come si reagirà qua, se si rimbalzerà da questa cumo, dal livello di questa cumo, livello inferiore, se non si andrà sotto questo minimo. E come al solito, basta una HFT a cambiare tutto, eh? Basta una candela verde, una seconda candela verde, ci si vincola di inverso e si torna a salire. Ma è esattamente il contrario, vale, lo sappiamo. E i volumi, che possiamo vedere su Volumetica, sui Future, bisogna sempre ricordarsi che ci danno altre indicazioni, che qui non posso farvi vedere, peraltro. In ogni caso, ribadisco, io inizierò a mettere due allarmi. 43.739 43.739 Così andiamo a metterci il nostro primo allarme qui sopra, che ci dice da questo minimo, come swing, è partito un nuovo t-3, il sesto t-3, potenzialmente. Secondo allarme, lo mettiamo qui a 42.710 Perché lo mettiamo a 42.710? Perché, per rendere semplice il discorso, se ci andiamo sotto rapidamente, con queste candele, purtroppo dobbiamo spostare qui il quinto t-3. Ok? E attenzione, perché spostarlo lì che cosa significherebbe? Significherebbe, nella realtà dei fatti, raccontare che dopo un quinto t-3, con una violazione di uno swing di partinenza, da qui può iniziare la chiusura di questo settimanale, del secondo settimanale, che richiederebbe, peraltro, due t-3 ribassisti, quindi il sesto e il settimo. Ergo, sapete dove mettere gli stop loss, sotto, direttamente sotto, questo minimo a 42.710. Oppure, dove far partire un reverse? Nei tempi corretti, ovviamente. Quindi, eventualmente, ne parleremo nel proseguo del premio. Vi ringrazio per il vostro tempo e, come al solito, ricordatevi che, uh, caspita, non ve l'ho ancora detto, da quello che ci dice il Dipartimento di Matematica di Torino, abbiamo superato le 1.500 persone iscritte all'evento che ci sarà domani sera alle 18.30. Lascerò, come al solito, come anche nei giorni precedenti, il link per potervi registrare gratuitamente e per ascoltare qualche informazione interessante per valutare i costi delle banche e cosa c'è di alternativo, soprattutto se parliamo di gestione patrimoniale. Interverranno anche Consob e Agusbef, quindi potete mancare soltanto voi. A voi la scelta di che cosa fare. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata. Arrivederci!